Votiamo l'articolo 38. Vezzali, Garda, Turco, altri che non riescono a votare? Cominardi. Ci siamo? No. Stella Bianchi. Bene, altri? Dilello, colleghi, state al posto, per favore, la votazione è chiusa. Presenti 420 votanti, 384, astenuti 36, maggioranza 193, favore di 383, contrari 1, la Camera approva. Siamo all'articolo 39, mi confermano il parere contrario sul 39.2 Grimoldi sia il relatore che il Governo? Sì? Quindi a questo punto, se nessuno chiede di intervenire, 39.2 Grimoldi, la votazione è aperta. Frato Gli Anni. Frato Gli Anni. La votazione è chiusa. Presenti 420, votanti 415, astenuti 5, maggioranza 208, favore di 158, contrari 257, la Camera respinge. Votiamo l'articolo 39. La votazione è aperta. Articolo 39. Bolognesi. Minucci.